Il canto Te lo diamo Trinità Nostro Dio ti adoriamo Padre dell'umanità La tua gloria Cristo sia con tutti voi Dopo una forzata Sosta di due anni Ecco finalmente questa sera Possiamo ritrovarci qui insieme A celebrare Ecco l'Eucaristia Ecco in occasione Ecco di questa sagra Diciamo che caratterizza un po' Il nostro paese La nostra comunità di Almeno E quindi il primo sentimento Qua è di ringraziare il Signore Che ci offre la possibilità appunto Di ritrovarci Di riprendere in un certo senso Un cammino Anche se tra virgolette Dobbiamo dirlo Di normalità E sappiamo Che i problemi Non sono del tutto superati Problemi legati alla pandemia In questi ultimi mesi Il grosso problema Ecco della guerra In Ucraina E così Ognuno di noi poi si porta Qui davanti all'altare Un po' la propria vita Un po' le proprie gioie Le proprie fatiche Le proprie sofferenze Ecco noi vogliamo innanzitutto Ringraziare comunque il Signore Che ci offre questa possibilità Ecco di questo ritrovarci Ed è bello farlo all'inizio Proprio nell'Eucalistia Come segno di gratitudine a Lui E nonostante esempio Questo ci offre l'occasione Ecco di ricordare Anche le tante persone Che ancora stanno soffrendo Ecco nel mondo A causa ecco di questa situazione Particolarmente difficile Che stiamo attraversando In tanti sensi E ricordare anche le persone Che in questi due anni Ci hanno lasciato Cui a causa ecco della pandemia Altri diciamo così Ci hanno lasciato per altri motivi E quindi siamo qui per Affidarli al Signore Per chiedere al Signore appunto Che li accolga ora nella sua pace Nella sua gioia E ognuno di noi porta nel proprio animo Nel proprio cuore Diciamo qualche persona particolare Che questa sera naturalmente Vuole ecco vuole ricordare E allora ci affidiamo adesso al Signore Ci riconosciamo davanti a Lui Come sempre innanzitutto peccatori E quindi disognosi Dal suo perdono E dalla sua misericordia Confesso a Dianipotente e a voi Fratelli e sorelle Che ho molto peccato I pensieri, parole, opere e omissioni Per mia colpa Mia colpa Mia grandissima colpa Christe, 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 eleison Chirie, Christe, eleison Chirie, Chirie, eleison Gloria a Dio nell'alto dei cieli E pace in terra Agli uomini amati dal Signore Noi ti lodiamo Ti benediciamo Ti adoriamo Ti glorifichiamo Ti rendiamo grazie Per la Tua gloria immensa Signore Dio Re del Cielo Dio Padre Onnipotente Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo Signore Dio Agnello di Dio Figlio del Padre Tu che togli i peccati del mondo Abbi pietà di noi Tu che togli i peccati del mondo Accogli la nostra supplica Tu che siedi alla destra del Padre Abbi pietà di noi Perché tu solo il Santo Tu solo il Signore Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo Con lo Spirito Santo Nella gloria di Dio Padre Amen Preghiamo O Dio che hai preparato Beni invisibili Per coloro che ti amano Infondi nei nostri cuori La dolcezza del tuo amore Perché amandoti in ogni cosa E sopra ogni cosa Otteniamo i beni da te promessi Che superano ogni desiderio Per il nostro Signore Gesù Cristo Tuo Figlio che è Dio E vive e regna con te Nell'unità dello Spirito Santo Per tutti i secoli Dei secoli Dal libro del profeta Geremia In quei giorni Il re infatti non ha poteri contro di voi Essi allora presero Geremia E lo gettarono nella cisterna di Malchia Un figlio del re La quale si trovava nell'abrio della prigione Calarono Geremia con corde Nella cisterna non c'era acqua ma fango E così Geremia E così Geremia affondò nel pango E Belmele uscì dalla regla E disse al re O re mio Signore Quegli uomini hanno agito male Facendo quanto hanno fatto Al profeta Geremia Geremia Gettandolo nella cisterna Egli morirà di fame là dentro Perché non c'è più fame nella città Avendo deposto tutto ciò che è di peso E il peccato che ci assegna Corriamo con perseveranza Nella forza che ci sta davanti Tenendo fisso lo sguardo su Gesù Colui che dà origine alla fede E la porta a contimento Egli di fronte alla gioia Che gli era posta dinanzi Si sottopose alla croce Disprezzando il disonore E siede alla destra del trono di Dio Pensate attentamente A colui che ha sopportato Contro di sé Una così grande ostilità dei peccatori Perché non vi stanchiate Perdendovi d'animo Non avete ancora resistito Fino al sangue Nella lotta contro il peccato Parola di Dio Grazie a Dio Alleluia 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 Il Signore sia con voi E con il tuo spirito Dal Vangelo secondo Luca Gloria a te Signore In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli Sono venuto a gettare fuoco sulla terra E quanto vorrei che fosse già acceso Ho un battesimo nel quale sarò battezzato E come sono angosciato finché non sia compiuto Pensate che io sia venuto a portare pace sulla terra No, io vi dico Ma divisione D'ora innanzi Se in una famiglia vi sono cinque persone Saranno divisi tre contro due E due contro tre Si divideranno padre contro figlio E figlio contro padre Madre contro figlia E figlia contro madre Suocera contro nuora E nuora contro suocera Parola del Signore La parola del Signore che abbiamo ascoltato In particolare proprio il testo del Vangelo Che appena adesso è stato programmato Non è certo una parola facile Non è certo una parola come si dice oggi Buonista Ma piuttosto una parola graffiante Una parola che per tanti aspetti quasi ci aggredisce Una parola difficile per tanti aspetti Magari anche da capire immediatamente Ma soprattutto poi da vivere Perché noi sappiamo che la parola del Vangelo È una parola da ascoltare così Semplicemente con le orecchie Ma è una parola che chiede di entrare nella nostra vita E di diventare la nostra vita Già Gerenia Il protagonista della prima lettura Aveva sperimentato come la fedeltà al Signore A un prezzo Un prezzo spesso difficile da pagare Non semplice La parola di Dio non è una parola Che si accetta così Che si può accettare con facilità E quindi anche la parola che Gerenia porta La sua parola o meglio Quella parola che non è sua Ma la parola che Dio gli ha fidato Una parola che graffia Una parola che dà fastidio E difatti il re Lo abbiamo sentito Istigato anche dai suoi funzionari Fa calare Gerenia in quella cisterna Dove corre il rischio di morire Affondando appunto nel fasco Ecco fortunatamente però c'è sempre qualcuno Che non si lascia condizionare dalla situazione Dall'interesse personale Che non scenda compromesso Così a scapito della verità Qualcuno che corre il rischio Di andare dal re E far presente la drastica L'ingiustizia che lui sta compiendo E così Gerenia Sarà salvato Il Signore Questo è un po' il messaggio Che ci dà questo testo Questa parola Il Signore non abbandona mai Il suo servo Non abbandona mai Chi fedelmente Anche a rischio della vita Sa mettersi E si mette al suo servizio Ma torniamo così Al testo del Vangelo Gesù qui parla Diciamo con parole Come dicevamo già anche prima Abbastanza duri Parla di fuoco Sono voluto portare un fuoco sulla terra Parla di battesimo Quindi di acqua La parola che lui è venuto a portare Quella parola che lui è semplicemente Una parola che lui dice Ma quella parola che lui è E appunto fuoco e acqua Ecco questa La metafora del fuoco e dell'acqua È una metafora per tanti aspetti ambivalente Il fuoco sappiamo scalda Questi giorni magari non abbiamo bisogno Però quando fa freddo il fuoco scalda Ma il fuoco anche brucia L'acqua Lo stavamo sperimentando in questi mesi È fondamentale C'è bisogno Tutto è riasso C'è bisogno di acqua Però l'acqua quando Anche qui In questi periodi a volte certi temporali Certe bombe d'acqua Come dicono adesso Provocano invece distruzione E la parola di Dio Ha in sé stessa appunto Questa ambivalenza In sé questa forza Una parola quindi Che non lascia le cose Semplicemente come prima Questa parola Questa parola che Gesù poi traduce anche con pace Anche se anche qui la difficoltà di questo testo Non sono Gesù dice Lui che Beati colore coprono la pace Eccetera Ma che dice Non sono venuto a portare la pace sulla terra Ma appunto La divisione Questa parola È una parola che crea tante volte appunto Richiuto Che crea scontro Che crea appunto divisione Perché se è una parola che è presa sul serio È una parola che non può scendere a compromesso Con quelle che sono tante volte Invece così le nostre situazioni E così che cerchiamo di gestire al meglio Per conto nostro Secondo magari i nostri calcoli Secondo i nostri interessi Secondo tante volte i nostri comodi È una parola quindi che non si adatta Al compromesso Alla falsità Agli interessi di parte È una parola che chiede di decidersi Da che parte Da che parte vogliamo stare D'altra parte Gesù stesso Per compiere la sua missione È passato attraverso il rifiuto Il rifiuto Che lo porterà appunto alla passione Alla croce Ce l'ha detto anche alla seconda lettura Che abbiamo ascoltato Il testo della lettera agli ebrei Gesù ci ha testimoniato La sua fedeltà al Padre E quindi il suo amore per noi Attraverso Appunto attraverso la croce La croce Che ai nostri occhi Agli occhi dell'uomo Appare come un fallimento La croce è un battito Sulla croce Solitamente è inchiodato Uno che è un fallito Uno che ha Sbagliato la propria vita Ma il mattino di Pasqua Si rivederà Come solo quella Invece è la strada La strada vera Ecco per la pace La strada certo non facile Ma la strada della salvezza Quello Gesù inchiodato sulla croce Come un malfattore In realtà È il salvatore dell'umanità Quella croce da patibolo Quindi segno di morte Di violenza Di ingiustizia Diventa segno di amore Perché lui su quella croce Muore appunto per amore Donando la sua vita E quella Quello che è il frutto Allora è tutto questo È quello che Gesù riassume In quello che è il saluto pasquale Per eccellenza Sappiamo che la prima parola Che Gesù rivolge Ai suoi discepoli Dopo la sua risurrezione E si presenta a loro È pace A voi Quella è la vera pace Quella è la vera salvezza Per la nostra umanità E Gesù sappiamo che Nella Pasqua Consegna questa pace ai Suoi Perché i Suoi la portino nel mondo Certo La condizione quindi Perché questa pace Raggiunga anche noi E non soltanto la pace Diciamo che noi Invochiamo Ecco Per il popolo dell'Ucraina Certo è importante Perché questo è fondamentale Ma una pace che va oltre questo Una pace che non è semplicemente Assenza di conflitti Ma una pace che Accoglienza Dall'amore di Dio In noi Però la condizione Appunto perché Questa Pace si realizzi E la disponibilità Come è stata per lui Per Gesù Anche per ciascuno di noi Di passare Anche attraverso Il rifiuto La persecuzione La passione Non è facile La strada che Gesù Ha percorso E che Gesù Straccia anche per noi Ma questa È la strada E Gesù non ci imbroglia Non ce lo nasconde Ciò l'ha detto Con chiarezza Se vogliamo seguire lui Non c'è altra strada Se non quella In cui anche noi Siamo chiamati A prendere con lui La nostra croce Sulle nostre spalle Ma tutto questo Gesù non lo dice Per spaventarci O per così Mettersi addosso Paura Ma per darci coraggio Perché lui ci assicura Innanzitutto Che lui sarà sempre con noi Lui per primo Ha aperto questa strada E lui sarà sempre con noi Se noi accettiamo Di percorrerla Insieme con lui Perché questa Alla fine È la strada vera Dell'amore L'amore vero È l'amore di chi Sa dare la propria vita L'amore Non si dona Dando qualcosa L'amore si vive Si dona Si dona Si accoglie Della misura In cui si dà Se stessi Si dona Se stessi Questa è la strada Anche se Amare allora A questo punto Non è semplice Non è facile Ma Gesù Lui per primo Ha percorso questa strada Lui continua a percorrerla Con noi E se noi vogliamo Stare con lui Vogliamo seguirlo La strada È quella che lui Ci sta indicando È la strada Non facile È la strada Non così Facilmente Percorribile Ma è l'unica strada vera La strada Nella quale noi Troviamo La sua salvezza La squadra Nella quale noi Possiamo Sperimentare Veramente La vera pace Perché la vera pace È il suo amore Per noi Che a nostra volta Siamo chiamati poi A condividere Tra di noi Credo in un solo Dio Madre onnipotente Creatore del cielo E della terra Di tutte le cose Visibili e invisibili Credo in un solo Signore Gesù Cristo Unigenito Figlio di Dio Nato dal Padre Prima di tutti i secoli Dio da Dio Luce da luce Dio vero Da Dio vero Generato Non creato Della stessa sostanza Del Padre Per mezzo di Lui Tutte le cose Sono state create Per noi uomini E per la nostra salvezza Dissete dal cielo E per opera Dello Spirito Santo Si è incarnato Nel seno Della Vergine Maria E si è fatto uomo Sopernò e sotto Ponzio Pilato Morì E fu sepolto Il terzo giorno E risuscitato Secondo le scritture E salito al cielo Siede all'estero del Padre E di nuovo Verrà nella gloria Per giudicare I vivi e i morti E il suo regno Non avrà fine Credo nello Spirito Santo Che è il Signore E dalla vita E procede dal Padre E dal Figlio E con il Padre Il Figlio Adorato E glorificato E ha parlato Per mezzo Dei profetti Credo la Chiesa Una Santa Cattolica E apostolica Professo Un solo battesimo Per il perdono Dei peccati Aspetto La risurrezione Dei morti E la vita Del mondo Che verrà Amén La parola di Gesù È esigente Uniamo cuore e voce Per chiedere al Padre Il fuoco dello Spirito Che sostenga la nostra fede E la mantenga coerente In mezzo alle tempeste Della vita E della storia Preghiamo insieme E diciamo Donaci o Dio Lo Spirito di fortezza Donaci o Dio Lo Spirito di fortezza Per la Chiesa Perché annunci sempre Cristo Con verità e amore Anche quando la missione Le procura sofferenze E persecuzioni Preghiamo Donaci o Dio Lo Spirito di fortezza Per i nostri fratelli E sorelle di fede Perseguitati In troppi paesi del mondo Perché il Padre Gia il loro forte coraggio E ai persecutori La conversione del cuore Preghiamo Donaci o Dio Lo Spirito di fortezza Per gli adolescenti E i giovani Perché non si perdono D'animo Nella loro esperienza Di fede E abbiano la forza Della coerenza Anche se derisi Per la loro adesione A Cristo Gesù Preghiamo Donaci o Dio Spirito di fortezza Per noi qui presenti Perché tenendo lo sguardo fisso Su Gesù Autore e perfezionatore Della fede Sappiamo accettare Le sofferenze Che provengono Dall'adesione a Lui Preghiamo Donaci o Dio Il Consiglio di fortezza Ricordiamo sempre Anche in modo Tutti i nostri Cari defunti E in particolare In questa Eucaristia Ricordiamo i defunti Dall'associazione Cacciatori Quelli che in particolare Sono morti In questi due anni E un ricordo Per tutto particolare Naturalmente per Galizzi Luigi Perché il Signore Gesù Che li ha chiamati a sé Direi ora pienamente Partesiti Della pace E della gioia Del suo regno Preghiamo O Dio che nella croce Del tuo figlio Rivedi i segreti Dei cuori Donaci occhi puri Perché tenendo lo sguardo Fisso su Gesù Corriamo con perseveranza Incontro a Lui Nostra salvezza Per Cristo Nostro Signore Signore Di spieghe indori I nostri terreni Umerdosi Mentre I figli E le cose Signore Signore Pop FM Dio Signore 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. E' veramente cosa buona e giusta, nostro dovere è fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a Te, Signore Padre e Santo, Dio onnipotenza ed Eterno per Cristo, Signore nostro. Nella tua misericordia per noi peccatori, Egli si è degnato di nascere dalla Vergine. Vorendo sulla croce ci ha liberati dalla morte eterna. Con la sua risurrezione ci ha donato la vita immortale. Per questo missione di salvezza, con gli angeli e gli arcangeli, i troni e le dominazioni, e con tutte le schiere celesti, cantiamo senza fine l'inno della tua gloria. Santo, 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 Santo il Signore, Dio dell'universo, i Cieli della Terra sono piedi della tua gloria. O Sanna, O Sanna, O Sanna, O Sanna nell'alto dei Cieli, benedetto colui che viene nel nome del Signore. O Sanna, O Sanna, O Sanna nell'alto dei Cieli, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Veramente Santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro, Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse, prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse, prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. mistero della fede, ammazziamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione, nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. e ti rendiamo grazie perché ci è resi debili di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. ricordati Padre della tua chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Francesco, i presbiteri e i diacoli. ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe il suo Sposo, gli Apostoli, Sant'Uberto e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio, Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amén. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla Sapienza del Vangelo, Preghiamo insieme Padre Nostro che sei nei Cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. di non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci Signore da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi Apostoli, vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi e con il tuo Signore. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, apri pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, apri pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, donano e la pace. Ecco l'Agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'Agnello. O Signore non sorrere la testa della tua Chiesa, ma risolta una parola che io posso fare. Grazie a tutti. 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 a tutti.